Una partita stupida del Milan Stupido Milan era il titolo Una citazione vascorossiana Ma anche fuori dalla citazione Una partita con tanti piccoli momenti di stupidità Tecnica e agonistica Dal gol del 2 a 1 Che è francamente inaccettabile In Serie A prendere un gol del genere Ma anche il primo, non è da meno Anzi parte da una rimessa sbagliata Da Fofanà, diventa un controfallo Un'altra rimessa e poi tutti fermi I gol di Adli E poi tutta la questione incredibile Sui rigoristi, sulle parole di Fonseca Ne parliamo tra poco I belli di, boh, non so nemmeno come definirlo Pressappochismo Della connessione mentale Perché il pressappochismo Il pressappochismo Definisce uno che sa che Le cose possono essere fatte meglio ma non le fa Qui sembra di avere a che fare con Direttantismo Quasi, è quasi più direttantismo Sta arrivando la parola giusta, ancora non ce l'hai No, forse più direttantismo Però non lo so No, forse più direttantismo